Ben ritrovati amici del Centro Metro Italiano. Tempo instabile sulla nostra penisola con nuvolosità in transito associata a piogge sparse. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 18 gennaio. Locali fenomeni al mattino su Emilia Romagna, regioni del centro, Campania, Calabria e Sardegna. Neve oltre i 1000-1300 metri sull'Appennino settentrionale. Variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile sulle stesse regioni con neve sull'Appennino centro-settentrionale oltre agli 800-1400 metri. In serata e nottata fenomeni sparsi al centro nord e tempo più asciutto al sud, salvo locali piogge sulla Campania. Neve fin verso i 400-600 metri su Alpi centro-occidentali e Appennino settentrionale. Temperature minime e massime in calo sul nord e Sardegna, stazionario in leva aumento altrove. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.